Tra poco Sul canale 17 di Fanno TV, l'informazione locale Incidente stradale sulla provinciale 3 tra Cagli e Cantiano Muore un camionista di Foligno, miracolosamente illeso, il conducente di un furgone Il processo per il delitto di Ismael e Lulli, Ergastolo a Iglimeta e 28 anni a Mario Mema Finisce indagata Ambera, l'ex fidanzata dell'assassino Il degrado scorre lungo il canale Albani e il comune di Fanno è costretto a sollecitare interventi urgenti a Enel Green Power per la bonifica del corso d'acqua Grazie ad un finanziamento del Lions Club sta per tornare al suo antico splendore una delle opere più apprezzate a Fanno, l'annunciazione di Guidoreni A Montegiano, nel Pesarese, domenica torna la festa più attesa e gustosa del paese La Crescia Saikukon Buonasera, benvenuti a Occhio alla Notizia La cronaca in apertura questa mattina All'alba un incidente mortale tra Cagli e Cantiano Un tir si è scontrato con un furgone, poi è uscito di strada L'autista è morto sul colpo Sull'opposto dell'incidente è andato Marco Ferri Era partito questa mattina all'alba da Rimini dove ieri pomeriggio aveva fatto una sosta tecnica Al titolare dell'azienda di trasporti per la quale lavorava aveva detto che sarebbe rientrato in mattinata Ma Gianluca Marchetti, 53 anni, di Foligno dipendente di una ditta di autotrasporti di Gualdo Tadino a destinazione non ci è mai arrivato Si è schiantato qui, poco dopo la galleria di Cagli Ovest mentre era alla guida del suo tire stava percorrendo la strada provinciale Treflaminia in direzione Roma Poco prima dell'uscita di Cantiano l'autista che trasportava piattelli per il tiro a volo ha perso il controllo del bilico forse per un colpo di sonno oppure per un malore ha invaso prima la corsia opposta dove stava transitando un furgone frigorifero con derrate alimentari per la ristorazione poi nella corsa ha rivelto il guardrail definito sulla strada comunale di Cantiano a fianco alla superstrada finendo per siantarsi contro il muro di contenimento della vecchia Flaminia Nell'impatto l'altro conducente Walter Monaci di 36 anni del posto è rimasto miracolosamente illeso e si è visto praticamente passare la morte in faccia un metro prima e l'auto articolato lo avrebbe centrato in pieno trasferito all'ospedale per accertamenti è stato poi dimesso sarà forse necessaria l'autopsia invece per stabilire con esattezza le cause del decesso dell'autista di Foligno sposato e con un figlio sull'asfalto ci sono i segni della frenata e questo potrebbe tenere aperte anche altre ipotesi che sono al vaglio della polizia stradale di Cagli pesanti le ripercussioni anche sul traffico locale dalle 6.30 del mattino sia la strada provinciale 3 che la vecchia Flaminia sono rimaste chiuse uscite obbligatorie a Cagli Ovest e Cantiano imponente anche il dispiegamento di uomini e mezzi dai vigili del fuoco di Cagli e dei distaccamenti vicini ai vigili urbani di Cagli e Cantiano agli uomini dell'ANAS e del soccorso stradale per la rimozione dei mezzi pesanti coinvolti e la bonifica del piano viabile la superstrada è stata riaperta poco prima delle 15 ed ora veniamo alla sentenza del processo per l'omicidio di Ismaele Lulli oltre alle condanne per i due imputati c'è una nuova indagata è Ambera, l'ex fidanzata di Igli che mandò il fatale messaggio a Ismaele per attirarlo nel bosco sentiamo due imputati, due condanne ed una nuova indagata questo il risultato di oltre sei ore di Camera di Consiglio dei giudici per emettere la sentenza nel processo sull'omicidio di Ismaele Lulli Ergastolo per il suo assassino Igli Meta e 28 anni e 4 mesi al suo palo Mario Mema ed una richiesta di indagare Ambera per concorso in omicidio premeditato premeditazione riconosciuta per Igli che gli ha sferrato i colpi mortali e non per Mario ed esclusa per entrambi l'aggravante delle sevizie resa giustizia affermando la responsabilità di entrambi i ragazzi come noi avevamo chiesto per quanto riguarda la misura della pena è certamente una pena severa ma occorre anche considerare che il crimine è stato terribile e bisogna anche considerare che non c'è futuro per Ismaele Igli Meta albanese come Mario spacciatore di stupefacenti ha cecato proprio dalla gelosia dopo che la sua fidanzata appunto Ambera gli aveva detto della relazione con il 19enne di Sant'Angelo in un primo momento si è accusato di tutto poi dopo qualche mese ha ritrattato e accusato il suo complice di aver finito il lavoro e di aver gettato via il coltello su questo e sul ruolo di Ambera si è basata la difesa del suo pool di avvocati che non capiscono ora il ripescaggio da parte dei giudici del ruolo della fidanzata non capiamo perché non ci sia stato consentito di portare Ambera in aula che era la sede naturale dove avremmo formulato determinate domande però nello stesso momento il collegio trasmette gli atti alla procura c'è qualcosa qua che ci fa riflettere perché a questo punto noi riteniamo comincia allora a vacillare un po' l'attentabilità di Saliambera Mario ha sempre negato però di aver inferto alcun colpo ad Ismaele e di aver avuto solo un ruolo di comprimario cosa peraltro riconosciuta dalla corte vista la diversità della pena 27 anni senza premeditazione più un anno e 4 mesi per spaccio di droga che avrebbe comunque assistito inerme all'esecuzione di Ismaele ed aiutato poi ad occultarne il cadavere ma la sentenza del suo difensore è definita pesante prima bisogna leggere la motivazione dopodiché sapremo anche il perché di questa condanna che sinceramente io non mi aspettavo alla lettura della sentenza la mamma di Mario cede alle lacrime e dà la disperazione piange prima e piange dopo ed esce sorretta dai parenti senza dire nulla anche la mamma di Ismaele esce dall'aula senza proferire nessun commento lei sempre disponibile la lunga giornata però l'ha stremata e l'ha provata fortemente ed è stata l'ultima ad uscire dall'aula della corte d'assise dopo che gli sono sfilati davanti l'assassino e il complice di suo figlio seguendoli con lo sguardo fermo e fiero di una madre che ha chiesto giustizia e che non ha paura di guardare in faccia i carnefici del suo ragazzo ma alla fine cede anche lei alla stanchezza ed affida al giorno dopo un suo commento sui social condividendo il posto di una sua amica giustizia è stata fatta riposa in pace piccolo Angelo ed ora veniamo alle vostre segnalazioni che come sempre vi diciamo sono importantissime per quanto riguarda così un occhio in più sulla città e un luogo su tutti in queste ultime settimane è stato al centro delle vostre segnalazioni non solo verso di noi ma anche verso l'amministrazione comunale il luogo è quello dei passeggi per quella catasta di Cannici che si è formata sotto il ponte Storto e noi abbiamo interpellato l'assessore di competenza sentite cosa ci ha detto da molti e da sempre la zona dei passeggi il piccolo polmone verde a due passi dal centro di Fano è universalmente riconosciuto come uno dei posti più piacevoli dove passare del tempo in città panchine giochi per i più piccoli ampie zone d'ombra e ora da poco anche un piacevole punto ristoro per grandi e piccini ed anche un ponticello in legno che attraversa un corso d'acqua conosciuto come Canale Albani già il Canale Albani i passeggi sarebbero un piccolo paradiso se non fosse che il suddetto Canale Albani che lo attraversa rappresenta la maggior fonte di guai di questo piccolo Eden ultimamente proprio dalle acque del canale sono giunte le immagini e le segnalazioni dei nostri telespettatori circa lo sbarramento di Cannici che si è formato a ridosso del Ponte Rosso spettacolo poco edificante e fonte di sporcizia e degrado se poi mettiamo insieme anche la presenza di bestiole dalle dimensioni ragguardevoli e la presenza di strane sostanze galleggianti abbiamo una bella patata bollente per il comune che non ha la proprietà del canale e che quindi è limitato nei suoi interventi noi abbiamo raccolto le segnalazioni che in questi giorni ci sono state da diversi cittadini io stesso ho fatto personalmente un sopralluogo e abbiamo scritto con una richiesta formale quindi a Enel Green Power sollecitando un intervento non solo per la rimozione di quelle ramaglie ma anche di prevedere tempestivamente quelli che devono essere in quell'area gli interventi parallelamente di deratizzazione e di disinfestazione per la zanzara trigre sostanze galleggianti schiumose dovute a tensoattivi di dubbia provenienza o semplici fioriture dovute alle sedimentazioni presenti sul canale che il brusco innalzamento delle temperature delle scorse settimane ha innescato come processo il risponso su quanto vedemmo galleggiare proprio sul canale e poi concentrarsi proprio contro la barriera naturale è atteso a giorni ma dai primi riscontri sembrerebbe proprio che la natura ed il clima abbiano giocato un ruolo determinante su questo episodio e una delle opere di maggior prestigio presenti nella Pinacoteca Comunale di Fano sta per ricevere un importante sostanziale intervento di restauro grazie all'interessamento e il finanziamento di un privato è l'annunciazione del Guidoremi l'opera costituisce uno dei capolavori più significativi della collezione della Pinacoteca Civica testimonianza di eccezionale bellezza dell'opera del maestro bolognese realizzata per la chiesa barocca di San Pietro in Valle di Fano commissionato da padre Girolamo Gabrielli per l'ultima cappella della chiesa sul lato sinistro l'autore ultimò e inviò la tela a Fano alla fine del 1621 per il soggetto si ispirò al precedente dipinto eseguito dieci anni prima per la cappella Gabrielli del Quirinale a Roma il capolavoro del maestro ora grazie alle agevolazioni introdotte dell'Art Bonus potrà ricevere un'opera di restauro che ne farà risplendere in tutte le sue sfumature la maestria e l'arte del suo autore oggi sanciamo l'accordo quella convenzione importante appunto tra ente che detiene la proprietà del bene e il mecenate che sostiene il restauro e questa è una buona pratica perché la società civile le associazioni anche i privati stessi che hanno un forte sgravio fiscale il 65% questo è diciamo lo snodo virtuoso della legge consentono di garantire al patrimonio nazionale una vita una conservazione una pubblicità e poi il fatto appunto come diceva lei che si collabora si collabora perché il patrimonio è immenso e delegarlo solo alla funzione pubblica per una manutenzione diventa una gara spesso insostenibile tutto questo sarà possibile grazie all'accordo sottoscritto questa mattina all'interno di una delle sale più affascinanti di Fano la sala dei globi nella biblioteca federiciana luogo carico di storia e reperti preziosissimi abbiamo deciso di donare a questa città il restauro dell'annunciazione dei Guidoreni perché crediamo che sia un'opera importante che vada certamente vista che darà ancora lustro un prigio ulteriore a questa nostra città è un service diciamo così fortemente impegnativo per le nostre finanze abbiamo raccolto tutta la nostra audacia il nostro coraggio perché credo che la città insomma si aspetti forse anche da noi interventi significativi come quello che stiamo sostenendo e finanziando questo è quello che ci contraddistingue come linea e ora spostiamoci a Pesaro per una comunicazione importante sul fronte della viabilità da mercoledì 3 maggio a partire dalle ore 8.30 e fino a venerdì 5 maggio il sottopasso di via De Gasperi resterà chiuso al traffico per lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto di smaltimento delle acque meteoriche per raggiungere la zona di Loreto e via Flaminia si dovrà utilizzare il sottopasso San Decenzio in via Bondei dietro il tribunale raggiungibile seguendo la segnaletica che verrà predisposta per l'occasione e Davide Di Tommaso non è più il coordinatore regionale per le Marche di Forza Nuova tra le cause che lo hanno indotto a dimettersi le posizioni divenute ormai inconciliabili con alcuni rappresentanti del movimento contemporaneamente alle dimissioni del coordinatore regionale da segnalare anche lo scioglimento della storica sezione di Macerata ed ora chiudiamo con gli eventi e un evento in particolare che riguarda un po' il territorio e le tradizioni rurali e contadine andiamo a Montegiano e li accogliamo con un bel applauso vai vai Montegiano ottava edizione di una manifestazione che prende sempre più piede e continua a piacere per la sua essenza e matrice rurale sì noi stiamo preparando la nostra ottava edizione siamo pronti e abbiamo abbellito il nostro piccolo paesino come si fa a casa quando avviti degli ospiti graditi e quindi noi vi invitiamo a condividere questi due giorni in campagna dietro l'angolo per stare un momento insieme e rilassarsi il perno principale è la crescia con i Cucon però insomma ci sono tante cose attorno alle quali ruota questa manifestazione sì diciamo saranno due giornate da vivere già dalle prime ore del mattino quindi abbiamo organizzato oltre alla classica festa popolare tante altre iniziative naturali sportive culturali anche quindi partiamo già dal 30 con una bella passeggiata in mountain bike per le colline circostanti torneo di calcio per i bambini poi per passare il primo maggio con la fantastica camminata naturalistica e poi abbiamo creato un'area per bambini dove mettiamo a disposizione gratuita i giri a cavallo la parete attrezzata per le rampicate i gonfiabili e poi ci sarà comunque lei la principale nostra produzione che è la crescia che abbiamo allestito apposta uno stand dove appunto la fornerino direttamente vi aspettiamo insomma appunto con l'orchestra Ioselito per il giorno il primo maggio e il 30 aprile con l'orchestra tradizionale e per chi non lo avesse capito o non è insomma del luogo i Cucon sarebbero le uova sode bene e con questa gustosa ultima notizia chiudiamo qui questa edizione di Occhio alla Notizia l'informazione torna domani mattina alle 7.30 con Occhio ai giornali grazie e buon proseguimento con le trasmissioni di Fano TV arrivederci